Il concorso letterario internazionale Festa dei Popoli Aversa è giunto quest'anno al traguardo della terza edizione, solidarietà, amicizia, pace, dialogo interculturale sono i temi in grado di tenere sempre vivi non soltanto l'attenzione ma anche la fantasia, la creatività, l'intuito a giudicare dall'eccezionale mole di manoscritti che arrivano ogni anno in Diorcis da ogni parte del mondo, non solo d'Italia. Certamente perché con questo noi vogliamo raggiungere due scopi, il primo è quello di formare le persone con questo bel mondo della poesia e della letteratura che sono, da sempre sono state due grandi espressioni dello spirito umano e quindi aprono il cuore, aprono la mente a tante persone che sono appassionate anche di queste cose e quindi si rendono anche sensibili alle nostre problematiche dell'accoglienza e della solidarietà che è sempre un problema attuale e poi lo facciamo anche in questa maniera perché la letteratura, la poesia sono le cose belle dell'uomo. Don Peppino, lei ha definito la presenza delle oltre 200 opere in concorso come il segno tangibile della sensibilità dell'Occidente verso l'accoglienza dei fratelli africani e della loro integrazione nel nostro tessuto sociale. Non solo, ma penso che col tempo questa nostra iniziativa della festa dei popoli sta diventando possiamo dire un capitale umano, spirituale, anche religioso, importantissimo. Ogni uomo fa nel suo accordo le possibilità di incontrare l'altro uomo e spesso, tra virgolette, la politica che vuole a tutti i costi limitare la libertà degli uomini, vuole libertare il loro pensiero, i loro sogni, la politica viene soppiantata dall'uomo, dalla persona, dal desiderio dell'uomo di incontrare l'altro uomo e di condividere un percorso anche di sofferenza ma specialmente di amicizia e di dialogo tra tutti i popoli. Eccellenza, a quasi sei mesi dalla quinta edizione della festa dei popoli ci ritroviamo a discutere ancora di barriere, non solo le preoccupanti contraddizioni che arrivano da un'Europa sempre più frassaiata, ma anche le recenti barricate fatte a Corino e il Ferrarese contro l'arrivo dei profughi. Papa Francesco si è appellato ai cristiani affinché accolgano i migranti mettendo da parte dell'istintivo egoismo. Ecco, oltre al dialogo, quali altri strumenti secondo me vanno adoperati per contrastare tensioni e paure che alimentano la costruzione dei muri e per coltivare quella solidarietà che sempre il Santo Padre ha definito l'unica soluzione? Beh, credo che non ce ne siano altri perché il dialogo è ciò che caratterizza gli esseri umani, è la possibilità che ci fa essere persone umane capaci quindi di guardare, di accogliere ciò che la vita ci propone, di pensare, di svilupparne una sindesi, di guardare in prospettiva ad un futuro. Cioè l'essere umano è l'unico tra gli esseri creati possiamo dire che è in grado di orientare il suo futuro, di organizzare in qualche modo la sua vita al di fuori di quelli che sono gli istinti e le esigenze semplicemente della sopravvivenza. E allora per questo è chiaro che il dialogo diventa la via maestra, è la via maestra che a tutti i livelli va esercitata, va esercitata a livelli, diciamo, del quotidiano in cui ci troviamo, va esercitata a livello chiaramente anche di quelle che sono le responsabilità delle grandi istituzioni che devono poter essere attente alla vita di ciascuno dei cittadini e proporre il cammino che possa essere il più efficace possibile per la vita di tutti. C'è un filo che unisce le opere che sono finite sul podio della terza edizione del concorso letterario internazionale Festa dei Popoli a Versa? Beh direi che non solo per le tre opere che sono sul podio, c'è un filo che le unisce tutte, noi abbiamo avuto quest'anno 213 opere, 15 dall'estero e in tutte c'è una grande sensibilità di fronte ai grandi problemi che abbiamo oggi, l'immigrazione, la povertà, diciamo le sofferenze in genere. Non è stato facile per i giurati, proprio perché in tutti i racconti ecco noi non cercavamo perfezioni stilistiche, cercavamo soprattutto appunto dimostrazioni di sensibilità, di voglia di fratellanza. Ho sempre scritto, fin da ragazzina. Favole? Non cronachissime. No, però nella favola ci si può mettere anche la realtà, diciamo, la verità, cosa proprio qua sono molto contenta generalmente, ho vinto parecchi premi, però questo mi gratifica in modo particolare. Per il tema forse? Sì, ecco, sì, per le idee soprattutto. Di cosa parli? Il racconto parla è la fantasia di una casa che rimane sola, abbandonata, quindi molto triste, decide di attirare l'attenzione dei passanti, non ci riesce, decide di andare lei in cerca di qualcuno che la possa abitare e raccoglie lungo la strada delle persone che poi formano una famiglia. Con il concorso si chiude la quinta edizione, la sesta si riapre idealmente con la peghiera interconfessionale che ci sarà in cattedrale a dicembre. Si riparte tra poco con un nuovo percorso, un nuovo cammino e quali altri obiettivi? La grande speranza è che ci sia un nuovo allargamento delle persone di attenzione, delle persone che si interessano e lavorano per queste problematiche, ce lo aspettiamo fortemente, anche perché al centro delle nostre attenzioni sarà il mondo giovanile, che è quello che potrebbe dare una forte spinta di entusiasmo, di gioia, di interesse alle nostre problematiche. non possiamo permetterci solo di vivere separati, di vivere di stando dall'altro, pensando che da soli poter programmare e pianificare incontri, progetti non è possibile più. È possibile mettendo insieme le varie anime, le varie iniziative, i vari incontri, le varie possibilità, i vari sogni, possiamo chiamare i sogni e sensibilità, i sogni, io posso dire i sogni delle varie uffici, veramente possiamo presentare una Chiesa viva, una Chiesa che lavora, una Chiesa che si impegna per l'uomo e l'uomo è la gloria di Dio vivente.